Università e scuole chiuse per l'emergenza da Covid-19, studenti, maestri e prof fuori sede in partenza per le regioni di provenienza. L'esodo da nord a sud in realtà è già cominciato da più di una decina di giorni e i primi a spostarsi sono stati i ragazzi che studiano negli Atenei Lombardi, Emiliani e Veneti, ai quali si stanno aggiungendo sempre più docenti. La comunicazione degli spostamenti da una zona all'altra del territorio nazionale è obbligo di legge per tutti i cittadini e ovviamente non solo per i professori e gli studenti che raggiungono i familiari in città diverse da quelle dove lavorano o studiano ed è contenuta nel DPCM del 4 marzo. L'indicazione deve essere fornita al momento dell'arrivo all'ufficio di igiene e profilassi che fa capo all'ASL territoriale. In base alla descrizione dei contatti avuti e del luogo di provenienza, che si tratti di zona rossa, gialla o città dove comunque sono stati registrati i contagi, gli esperti forniranno le regole da seguire. Per esempio, se bisogna restare in autoesolamento a casa, a distanza di sicurezza dai familiari, se è necessario essere visitati da un medico e come comportarsi con le altre persone. Nel caso in cui ci siano dei sintomi, le persone vengono subito prese in carico per i passaggi sanitari successivi. Dall'inizio dei controlli sul coronavirus, i laboratori regionali di riferimento, policlinici di Palermo e Catania, hanno effettuato diverse centinaia di tamponi, la maggior parte risultati negativi. I dati vengono aggiornati dalla regione siciliana. Per migliorare le performance di analisi sui cittadini che necessitano del test per il covid-19 attraverso il tampone rinofaringeo, l'assessorato alla salute ha individuato ulteriori sette laboratori dislocati su tutto il territorio regionale per l'analisi dei campioni. Spetta comunque ai due laboratori di Palermo e Catania confermare i test sui tamponi, che poi vengono trasferiti all'Istituto Superiore di Sanità per la validazione finale.